benvenuti a questo webinar dedicato alle soluzioni 10 gigabit e le soluzioni multi gigabit di link questo webinar noi ci focalizzeremo soprattutto su quelle che sono le soluzioni relative praticamente sia alle soluzioni appunto 10 gigabit cioè perciò alle soluzioni di fascia più alta relativamente al listino di link e ci occuperemo anche delle soluzioni multi gigabit che man mano stanno entrando dentro il listino e che di conseguenza sono praticamente si stanno giungendo all'interno del listino di link e che praticamente hanno lo scopo di fornire all'utente diversi tagli di porti di accesso che vanno dal gigabit fino a 10 gigabit. Prima di entrarci all'interno proprio della soluzione facciamo una leggera panoramica una breve panoramica su quelle che sono attualmente le tecnologie presenti all'interno dei listini dei vari vendor comprese quelli punto di link e come cercare di discriminare un po le soluzioni la scelta delle varie soluzioni appunto all'interno del listino. Sappiamo benissimo che gli switch possono avere due tipi di porte intanto le porte possono essere praticamente in rame cioè perciò hanno un cablaggio in rame oppure possono avere un cablaggio in fibra ottica. La scelta di una modalità dell'altra è legata soprattutto a una questione di distanze e in alcuni casi invece ad ambienti dove sostanzialmente l'utilizzo del rame può creare dei problemi e perciò si decide di utilizzare la fibra ottica proprio perché ha delle sue peculiarità particolari che la rendono più sicura. Inoltre diciamo che essendo la fibra ottica il dato qualcosa che viaggia a livello di fotoni ha anche il vantaggio appunto di essere anche più meno intercettabile dal punto di vista della sicurezza del dato per cui di fatto senza dover fare proprio un corso ad hoc sulla fibra ottica è ovvio che esistono dei scenari dove non solo si va oltre la velocità ma si va verso delle peculiarità particolari che la fibra ottica permette rispetto appunto al rame. In generale le switch poi hanno un taglio di porte che viaggia dalle 4 fino alle 54 e anche qui le switch possono avere all'interno di questo discorso un attotto di porte fibra o un portatore rame. Dal punto di vista poi delle velocità, le velocità man mano sono salite e di fatto attualmente abbiamo fino a 100 gigabit per quanto riguarda la velocità per cui si taglia, si parte dal taglio a 100 megabit fino ad arrivare al 100 gigabit con tagli intermedi come vediamo di gigabit 2,5, 5 giga che sono di fatto le novità per quanto riguarda la parte rame e le novità per quanto riguarda la fibra e soprattutto sono l'avvento del 25 giga che si va ad aggiungere al 40 e al 100. Dal punto di vista poi del POE cioè della velocità dell'alimentazione elettrica sul cavo cioè il power over ethernet il power over ethernet è un altro elemento che di fatto va ad aggiungersi sostanzialmente a quello che è la rete cioè in pratica è una convergenza dove la parte elettrica sostanzialmente converge sul cavo e perciò noi abbiamo che di fatto possiamo andare a alimentare tutta una serie di periferiche che una volta venivano alimentate separatamente vengono a questo punto invece alimentate dal punto di vista centrale il vantaggio del POE è legato a sostanzialmente un'integrazione che porta poi l'alimentazione appunto come dicevo centralizzate non più localizzata il vantaggio dell'alimentazione centralizzata sta anche nel fatto che io alimento gli switch con un unico punto e poi vado ad alimentare praticamente device da quest'unico punto centralizzato e di conseguenza ho meno punti di failure rispetto a un sistema di alimentazione distribuita dove ogni alimentatore rappresenta una possibile esercizietà all'interno della rete che perciò può potenzialmente portarmi dei problemi sia in termini di sicurezza sia in termini di affidabilità il fatto di avere sostanzialmente l'alimentazione centralizzata a questo punto mi permette di avere un unico punto di controllo e anche di ridondanza su questa eventuale l'alimentazione dandomi perciò sicurezza e maggiore efficacia all'interno della rete per fare questo sono stati fatti negli anni degli standard che sono partiti appunto da 802 3f fino ad arrivare a 802 3bt che declinano tutto quanto in termini di potenza per porta e di conseguenza ai 15 su 4 watt per porta si è salito si salite fino ai 60 watt per porta in alcuni casi fino a 90 oppure addirittura 100 in alcune modalità che di fatto possono anche essere proprietarie diciamo che perciò c'è una parte di tecnologia standard è una parte di tecnologia che può anche essere proprietaria legata a questa modalità di alimentazione più ad esempio c'è una modalità anche 24 volt di alimentazione sostanzialmente di più e che poi è proprietaria di fatto non è standard per cui di fatto questa tecnologia viene declinata in diversi modi diciamo che poi tutto quanto viene poi declinato lo si vede una tabella sotto forma di di classi che portano la periferica essere identificata per una determinata classe che nel quale deriva la generata potenza perché è importante capire la parte più e perché è sostanzialmente questa parte più che si evolve ma si vuole a braccetto con quello che è l'evoluzione delle device dove di fatto noi abbiamo che diversi device come sostanzialmente soprattutto le access point hanno aumentato nel loro tempo l'assorbimento e di conseguenza abbiamo una situazione nel quale gli switch devono poter essere diciamo in linea con quello che le sono le esigenze e di fatto facendo un esempio è se prendiamo le access point a x vediamo che alcune access point ormai arrivano a 19 20 watt per porta di fatto una soluzione che lavora solo in 802 3f cioè perciò eroga solo 15,4 watt per porta non è più non può essere più utilizzata proprio perché l'assess point non ha abbastanza alimentazione per poter poi arrivare alla fine a poter gestire in modo coerente è quello che sono l'accesso dei vari client per cui è ovvio che l'arrivo di nuove tecnologie con un assorbimento maggiore richiedono anche maggiore attenzione da parte dell'utente nel capire se poi lo switch è in grado o no di supportare a quei watt per porta e questo è uno dei motivi per cui di fatto bisogna andare a capire la rete non diciamo una rete nuova una rete già esistente per non avere poi dei problemi a valle successivamente del collegamento di diverse di queste periferiche classificazione dei switch per struttura fisica i switch che poi noi andiamo a proprio trattare finora abbiamo visti abbiamo parlato a livello di velocità abbiamo visto a livello di più e non più e a livello di fibro di rame insomma quelle che sono le caratteristiche diciamo basilari non switch in realtà poi lo switch può essere anche visto a livello fisico in tre modalità che sono la stand alone stacking e chassis all'interno del listino di link noi abbiamo cresciuto soluzioni stand alone non abbiamo soluzione accessi ma poi abbiamo soluzione di stacking dove come stand alone teniamo lo switch singolo a livello di porte mentre come stecchi il tema una soluzione che partendo da lo switch singolo permette di integrare altri switch singoli andando ad avere un'unica soluzione dal punto di vista logico e di conseguenza questa seconda modalità diventa una seconda modalità molto interessante soprattutto nel momento in cui si decide di andare a espandere la rete per aumentare il numero di porte senza andare a dovere una complessità di gestione proprio perché di fatto lo scopo finale è quello di creare un unico un unico punto a livello di switch di collegamenti dove un unico ip per la gestione e poi come un po come si vede nella figura nella slide di solito queste strutture vengono realizzate sempre ad anello dove praticamente ho una continuità di servizio nel caso uno o più switch di questa catena praticamente possono andare in full e perciò è una funzionalità che vi invito a considerare attentamente infine di switch li classifichiamo come ultime modalità diciamo con modalità che sono quelle più legate alla parte software cioè al firmware di quello che è lo switch e diciamo che classifichiamo le switch intanto per di fatto quattro livelli livello 2 livello 3 light oppure 2 plus che coincidono spesso ma spesso sulle slide usate sull'idata scelto possono anche essere differenti e livello 3 livello 2 è la classica soluzione che gestisce esclusivamente make address cioè che è quel codice all'interno decimale che identifica la b device all'interno della rete e perciò lo switch basilare così tanto basilare da essere spesso anche poi gameplay il cosiddetto switch manager adesso vediamo nella slide successiva poi ci sono le switch di livello 3 light oppure 2 dove hanno la facoltà pur partendo alle cadre di andare a gestire anche un protocollo di livello all'ire3 tipicamente tcp e di fare cioè quello che in gergo viene chiamato il l'intermural routing cioè la comunicazione tra le reti virtuali e di conseguenza di sezionare la rete molto molto più efficiente rispetto a quello che faccia di quello che fa livello 2 livello 3 invece full alla fine non è altro che la stessa macchina le tre light che va aggiungere dei protocolli di routing dinamico cioè dei protocolli autodattivi che sono in grado di far comunicare i client tra te di loro in modo sostanzialmente automatico e adattativo a funzione appunto del dei link che sono disponibili un po per chi segue un po il mercato wireless a un tipo mesh nella situazione c'è un sistema autodattivo della comunicazione vediamo un attimino a questo punto invece di parlare di quello che a parte la classificazione quello che poi identifica l'accesso cioè qualcosa io posso andare a fare all'interno dello switch la manager del sono perso la soluzione l'air 2 dove io non ho nessuna possibilità di interagire con la macchina e ci sono soluzioni sempre più soluzioni come le smart e cloud hanno preso posto all'interno di questo mondo portandolo diciamo trovandosi spazio taglia manager e manager perché sono soluzioni layer 3 light o layer 2 plus che sono costruite per essere semplici da utilizzare con un set di funzionalità complete anche se ovviamente mancanti di quella parte che poi i manager danno soprattutto sulla parte layer 3 full ma che soprattutto hanno anche un costo molto interessante e di fatto avendo questo costo molto interessante diventa anche interessante per il cliente andare a considerare tutta una serie di funzionalità che può andare a configurare rispetto alla manager che gli permettono poi di anche avere dei vantaggi tangibili all'interno della rete ad esempio a rispetto lo switch a manager la funzione di sicurezza dico sempre una su tutte ma poi realtà le funzionalità all'interno di questa macchina sono tante che sono ad esempio la protezione del loop cosa che è una macchina di questo tipo permette anche di fare verso le switch a manager cioè se io metto uno smart al centro della mia rete che va a gestire degli switch a manager che ovviamente non hanno una possibile prevenzione del loop io posso addirittura anche andare a gestire il loop che si originano sulle switch a manager per cui il consiglio che do sempre da qui a qualche anno a tutti i nostri utenti è quello di avere al centro della rete almeno una soluzione che sia smart o cloud cioè una soluzione di questo tipo proprio perché attivando delle semplici funzioni io ho anche dei vantaggi tangibili a valle sui switch a manager che sono andato all'interno della rete poi è ovvio che se l'utente decide di avere anche di smart a valle non è questo non è nessunissimo problema ma già una soluzione di questo genere va bene le soluzioni manager alla fine in questa freccia che punta verso l'alto vediamo poi rappresentano le soluzioni più costose e anche più performanti dal punto di vista delle funzionalità e sono sono macchine soprattutto che sono legati ovviamente a un tipo di mercato un tipo di utente che ha delle esigenze particolari per cui di fatto non è mai l'utente che ha utilizzano soluzione a manager cioè ammita nella soluzione manager le fatte che tutte queste soluzioni di solito sono gestite la presenza di una manager viene vista male perché impedisce all'utente che gestisce tutta la rete di avere la visibilità su un pezzo della rete e lo sappiamo che è quello punto della soluzione a manager fatta questa panoramica veloce andiamo un un attimino a vedere quelli che sono le funzioni gli apparati di stacking e gli accessori cioè ci focalizziamo sullo stacking un attimino poi dietro andiamo il tutto verso la nostre soluzione di 10 gigabit multi gigabit se considerano la funzionalità di stacking cioè quella funzionalità che vi dicevo di impilarli switch e ottenere sostanzialmente un unico switch dal punto di vista logico a livello sia di accesso IP sia a livello di quello che è il firmware e di fatto devo intanto avere delle macchine che supportano lo stacking e poi questo stacking viene utilizzato viene fatto tramite delle porte ovviamente più performanti rispetto alle porte principali. Se io considero uno switch gigabit viene fatto tramite porte 10 gigabit. Se io considero uno switch con porte che sono 10 gigabit è ovvio che uno switch sarà fatto con porte che abbiano almeno 40 o 100 gigabit. Questo per avere una linearità e per quanto riguarda appunto della banda cioè essendo poi punti di concentrazione di comunicazione tra le switch stesse. nel tempo queste modalità sono cambiate e diciamo che attualmente la più utilizzata è sicuramente il 10 gigabit fibra anche se poi col tempo è andato a presentarsi anche 10 gigabit RAM che ovviamente ha arrivato a proporsi come soluzione alternativa. Prima dell'arrivo di 10 gigabit RAM venivano utilizzati vengono ancora utilizzati in alcuni casi dei cavi TAC che su brevi distanze sembrano da tutto l'inizio esterno praticamente dei cavi in fibra ottica ma in realtà sono cavi RAM e terminati con dei mini gbic e hanno il vantaggio proprio di minimare i costi dell'utilizzo della fibra ottica appunto per la connessione tra tra gli switch. E di fatto queste sono un po' le tre modalità cioè il cavo DAC, il cavo in RAM e il cavo in fibra che devono essere poi viste in funzione di quello che sono le porte degli switch in termini sia di velocità che termini di sostanzialmente di di modello di switch cioè nel senso sia il suo porto o no di una determinata porta cioè nel caso di un switch che supporta sia rame che fibra oppure solo fibra e perciò in questa tabella che io inserisco vi metto anche un po' vi assumo un po' le caratteristiche delle nostre switch declinate in funzione di quello che possono fare in termini di porte, di perna eccetera. Tanto diciamo che l'anello può essere fatto in alcune switch può essere fatto tramite due porte oppure in altre switch può essere fatto tramite quattro porte per cui di fatto io posso avere molto più banda e alcune macchine questo discorso è praticamente fermo a due porte in altre invece può essere declinato e portato su quattro porte. Poi ogni macchina ha un numero di unità supportate massima che possono essere utilizzate per lo stacking e ad esempio se parliamo di XS3610-12, di XS364-4 e vien da andare. E poi ovviamente ogni macchina ha delle sue particolarità che sono legate alle porte e perciò ai tipi di cabli che possono essere utilizzati. Ad esempio se ci focalizziamo un attimo su l'IGS3130 noi vediamo che può utilizzare come cavo di stacking può utilizzare la fibra 10 giga, 10 giga rame oppure il DAC. Oppure se ci focalizziamo su DXS3610 che è una macchina a 10 gigabit vediamo che può utilizzare Fiber 100 giga, DAC a 40 e 100 giga. Perciò di fatto ci sono diverse modalità di scelta tra le varie soluzioni. La banda, come abbiamo detto prima, è legata anche non solo al tipo di porta ma anche a quanti tipi di cavi si vogliono utilizzare e l'altra questione importante da ricordarvi sempre è legata poi anche al fatto di creare sempre l'anello proprio perché la seconda porta nel momento in cui si attiva lo stacking viene comunque riservata alla modalità di stacking che vi ricordo sempre ad essere una funzione che va attivata, cioè perciò non di default e le switch non arrivano con lo stacking attivato e di conseguenza viene comunque in ogni caso riservata. Se io vado a considerare il cavo rame ricordo sempre che poi alla fine devo anche ricordarmi un attimino il cavo rame relativamente allo stacking di capire che tipo di cavo vado a utilizzare e noi consideriamo consigliamo sempre come vedete sostanzialmente l'utilizzo almeno del cavo categoria 6, 6A oppure superiore e perciò almeno andare di escludere da questo discorso qua praticamente l'utilizzo del cavo categoria 5, 5A. E' ovvio che qui come si suol dire l'utilizzo di questa modalità è prima per breve distanze perché normalmente di switch vengono messi abbastanza vicino, normalmente poi qualche volta possono anche essere più lontani però lo scenario normalmente è quello di macchine che si trovano abbastanza vicine tra di loro. In ogni caso se la distanza fosse superiore tenete conto di questa tabella. E altro discorso è legato al fatto che non parliamo di un unico cablaggio, cioè di un cablaggio che deve essere effettivamente tutta sulla rete ma parliamo di una patch, sostanzialmente di un collegamento tra switch ad hoc. Perciò ovvio che il cablaggio all'interno della rete può anche essere differente, è importante che ci sia una particolare attenzione poi a questo tipo di cablaggio se si decide appunto di utilizzare per fare praticamente lo stacking via rame, che vi ricordo sempre essere un'alternativa possibile all'interno dello stacking nelle varie opzioni. Diciamo che dal punto di vista poi di quello che è invece poi gli accessori che possiamo andare a considerare e ovviamente sono declinati in funzione di quello che sono la velocità e dall'alto sono declinati in funzione della modalità di trasporto, cioè abbiamo i cavi in fibra ottica e abbiamo i cavi di Dac. Cioè torniamo perciò ai cavi Dac, a parlare appunto di cavi Dac che in realtà sono dei cavi rame terminati tramite dei pseudo mini GB che perciò evitano di dover comprare i mini GB che come vediamo i vari vendor nel momento in cui forniscono un cavo o un mini GB di una determinata velocità poi tendono a fornire anche il cavo Dac corrispondente e di conseguenza c'è 10 GB, c'è il cavo di 10 GB Dac, 40, 40, 100, 100. Una volta esistevano anche dei cavi Dac non Dac che ormai non vengono più utilizzati proprio perché di fatto non ha più senso fare un uplink di questo genere o fare uno stack di questo genere per cui di fatto sono stati tolte dal listino e perciò i mini GB con giga rimangono solo transceiver che sono dedicati appunto a connessione di reti diciamo di più bassa velocità rispetto a 10 gigabit ma anche grazie al costo appunto di questi GB ormai da mini GB non giga che se è estremamente basso di fatto i cavi Dac qui non esistono più mentre per altri mondi cioè quelli del 25, 100 e via andare 10 GB o 40 GB corrispondono alle varie cavi Dac di solito questi cavi Dac poi sono corti noi formiamo cavi soprattutto da 1 o 3 metri per cui si capisce esattamente che l'oroscopo è quello di utilizzare su brevi distanze sullo stacking e vi ricordo sempre che comunque l'alternativa possibile sempre quello dell'utilizzo della fibra ottica dove garantiamo lo stacking fino a 10 km di distanza tramite ovviamente fibra monomodale e di fatto su lunghe distanze può essere utilizzata questa modalità vediamo un attimino velocissimamente perciò le soluzioni le decliniamo tutta la prima parte su quello che sono le nostre soluzioni da una parte abbiamo perciò si considera le soluzioni tradizionali 10 gigabit abbiamo il DXS 1210, il DXS 3004 e il DXS 3610 e il DXS 1210 rappresenta la macchina entry level per quanto riguarda le soluzioni 10 gigabit DXS 3004 e la macchina intermedia all'interno del nostro listino DXS 3610 rappresenta il top di gamma ed è la macchina più performante andiamo adesso a vedere un attimino le varie macchine tra di loro e andiamo a vedere per esempio DXS 3036 10 partendo proprio più dall'alto il DXS 3610 è una macchina che ha due possibili sviluppi di porte una tutta fibra e finisce con il 54S e una 54T che finisce con la T e perciò ha tutto corpo porte tutte rame con la plink in fibra ottica è una macchina di core di fascia alta ovviamente perché il numero di porte è un numero di porte importanti abbiamo detto che questa soluzione può essere messa i stacking tra di loro e aumentare il numero di porte e viene fornito già con due alimentatori all'interno del sistema dove io sostanzialmente poi posso andare a fare tutta una serie di azioni che sono legate soprattutto a quelle di quindi un core di fascia alta per cui come vi dicevamo il routing la parte di gestione tramite protocolli anche di fascia più alta e dove io poi di fatto ho anche diverse modalità di software cioè anzi due modalità di software una SI e una I dove praticamente io posso addirittura con le I aggiungere protocolli in Italia veramente molto poco utilizzati come il BGP e il MPLS ma quando è vero appunto trovate all'interno della soluzione abbiamo detto dello stacking lo stacking all'interno di questa soluzione viene fatta ovviamente con le porte 10 gigabit e con le porte 40 100 gigabit e qua a seconda del tipo di porte che vado ad aggiungere per cui posso anche andare a riempire tutte le 6 porte che abbiamo visto disponibili per quanto riguarda i 40 100 gigabit ottenere fino a 1200 gigabit di stacking bandwidth per cui è una banda notevole all'interno di questa macchina si possono utilizzare anche qua i transceiver in fibra ottica oppure andare a considerare i punti cavi DAC e di fatto creare questo anello ovviamente il fatto di utilizzare sostanzialmente la fibra ottica mi permette anche di fare il coserto cross building cioè di attraversare per cui l'edificio tra di loro e andarle a collegare appunto in fibra ottica dal punto di vista poi in ultimo del software l'avevamo accennato un po' prima la modalità in asset damage sblocca una serie di funzionalità tramite dei codici che sono gli XS361054T e XS361054S andando ad aggiungere delle funzionalità che sono l'L3 routing cioè il BGP, gli ISS e soprattutto dal mio punto di vista importante la parte L3 multicast cioè la parte di server IGMP persona 1, 2, 3 per applicazione appunto di questione di multicast e infine la parte MPLS se vado invece a focalizzarmi cioè ci andiamo a focalizzare sulla famiglia di XS364 vediamo che la macchina L3 Lite persona di fatto non ha la parte di routing dinamico che abbiamo detto prima e ha un taglio di porta inferiore per cui non ha un taglio di porte che è sulle 24 porte dove ho 20 porte di una modalità più 4 porte di combo cioè fibra o lame può essere messa in strada di loro è una macchina anch'essa molto importante e altamente performante che utilizziamo perché in termini di CPU è una macchina con performance molto molto elevate per cui molto interessante e perciò utilizziamo tranquillamente come core di rete all'interno di una rete appunto dove poi a valle ci sono diversi altri switch dove possono utilizzare appunto la plink c'è il fatto di utilizzare la plink a 10 gigabit e in questo caso l'alimentazione la seconda alimentazione non è fornita a default ma va acquistata separatamente e poi qua sotto vediamo un po' degli elementi che finora io non avevo parlato ma che comunque sono presenti che sono in tutti i switch ad stacking come lo stacking ID dove mostra il numero di switch all'interno della serie delle switch che vengono messe in stack e poi ci sono tutte altre cose come le porte di gestione come la porta USB la porta RG45 per la gestione via LAN e una porta RG45 mini USB proprio per la gestione per cui tu non ha parte di porte che sono dedicate alla gestione non tanto a lasciare il funzionamento dei device ma tipicamente alla gestione del switch stesso infine abbiamo su questa parte prima di passare alla parte multi gigabit abbiamo la famiglia di XS 1210 che è la parte entry level di questa famiglia 10 gigabit diciamo tradizionale dove ho la porta da 1 giga e la porta da 10 io mi focalizzerei soprattutto sulla parte di XS 1210 28T e 28S che rappresentano poi quelle macchine di fatto dove io ho un taglio di porte interessante come le 24 porte di XS 1210 più 4 porte 10 giga 25 giga SFP e dove sostanzialmente poi ho la possibilità di utilizzare queste macchine anch'esse come il coro di rete proprio perché sono macchine che permettono poi di andare a valle verso il collegamento verso altre macchine creando una struttura di rete interessante rispetto alla precedente non hanno lo stacking per cui non offro di fatto la ridondanza dello stacking come abbiamo visto precedentemente ma di fatto poi sono macchine anch'esse molto performanti che vi permettono proprio di avere all'interno della vostra rete un set anche di configurazione tipicamente la E3 Lite che vi permette di fare sostanzialmente molte configurazioni così come avviene appunto come il DXS 30004 però ha un costo ovviamente inferiore rispetto alla soluzione precedente focalizziamo adesso nell'ultima parte di questo nostro breve incontro sulle soluzioni multi gigabit intanto cosa vuol dire parlare di soluzioni multi gigabit? devo dire parlare di soluzioni che oltre alla porta 1 gigabit alla porta 10 gigabit vanno a implementare degli tagli intermedi che sono le porte a 2,5 e 5 gigabit la scelta di utilizzare questa montagna intermedia lascia soprattutto dal fatto che col tempo sono aumentate praticamente all'interno del nostro sistema del device nel nostro mondo nel network delle device che hanno aumentato la loro capacità di trasmissione per ultimo faccio come esempio gli access point gli access point generazione X wifi X perciò wifi 6 praticamente AX o wifi 6 hanno aumentato le loro bande aumentando le loro bande ovviamente adesso sappiamo benissimo che le stesse point possono tranquillamente nell'ambito della loro comunicazione fornire all'utente bande che andranno mai sui 3 gigabit se non di più l'utilizzo perciò della porta gigabit è diventato un po' un problema all'interno di queste soluzioni di fatto però la porta gigabit la porta gigabit è anche l'alimentazione in questo caso del PUE di questi device è ovvio che perciò si è andato a cercare di aumentare la comunicazione di queste porte portandole a 2,5 gigabit e anche di fornire PUE all'interno di questo sistema per cui attualmente poi a livello di PUE sono stati standardizzati 2,5 gigabit 5 gigabit e anche in ultimo 10 gigabit PUE e pensare però di mettere già una porta di 10 gigabit PUE a bordo di una soluzione di un access point è difficile perché determina molto il costo poi finale più facile pensare invece di inserire all'interno di queste soluzioni porte a 2,5 gigabit e perciò è ovvio che guardandovi in giro un po' andando a vedere il mercato troverete soprattutto che ci sono access point che hanno le porte 2,5 gigabit più all'interno del sistema l'altra cosa l'altro elemento importante perciò è stato appunto tornando un po' indietro nel discorso quello di focalizzarci sull'aumento della banda disponibile sulla porta andando a soddisfare esigenze di aumento di throughput presenti in alcune access point dall'altra parte il vantaggio di questa tecnologia di questo tipo di porte è legato al fatto che non è necessario andare a sostituire i cavi già presenti proprio perché su questa modalità 2,5 gigabit possono già essere già sono già pienamente compatibili personalmente col cavo categoria 5 di fatto perciò da un lato rappresenta un cambio dal punto di vista del dal punto di vista dell'utente piuttosto trasparente perché va a sostituire la soluzione e di fatto da un giga a due giga e mezzo e di fatto senza che questa abbia un grosso impatto su quello che avviene nella rete cosa che c'è una soluzione a 10 gigabit perciò è ovvio che tutti i vendor stanno spostando il focus della loro attenzione dalla soluzione a un giga a due giga e mezzo e questo focus avviene anche sulle soluzioni a manager perciò le soluzioni a manager della prossima generazione partiranno avendo a disposizione non più il gigabit come ultimo arrivo della porta ma anche il 2,5 come ultimo arrivo della porta se non 5 gigabit e rappresentano perciò una mini evoluzione come spesso accade all'interno del mondo del networking che porta potente poi a decidere visto che poi a breve usciranno sostanzialmente anche macchine che avranno 2,5 gigabit parlo di pc che avranno 2,5 gigabit come tipo di connessione a sostituire il device per esempio perciò se noi andiamo un attimino a focalizzarci su quello che è presente adesso noi possiamo avere che cosa switch con porti 10 gigabit che oltre alla tradizionale velocità di 1 giga e 10 giga propongono anche velocità intermedia 2,5 e 5 e sono di fatto quelle macchine che comprendono tutti i tagli di velocità partendo dal 10 fino ad arrivare ad 1 sono macchine invece dove le porte sono a 5 gigabit e ho velocità intermedia da 2 giga a 1 giga e infine ho delle macchine dove la porta semplicemente parte da 2 giga e mezza e si declina a 1 giga se noi andiamo a considerare un attimino con il nostro listino vedremo che stiamo inserendo una serie di periferiche alcune già presenti alcune in arrivo ad esempio DMS 1110 tipi è già presente ed è una macchina che ha 8 porte 2,5 gigabit come vedete più e e a 2 porte sfp e 10 gigabit lo scopo di questa macchina è anche abbastanza palese nel senso che è una macchina smart di semplice utilizzo un'evoluzione di fatto della famiglia 1210 che ha lo scopo di andare a connettere una serie di device che hanno bisogno di avere maggiore throughput tra le quali appunto parliamo appunto di l'S-S-Point o Wi-Fi 6 perché fornisce già 2,5 gigabit e oltre questo questa macchina ha il vantaggio di avere funzionalità appunto di sicurezza all'interno della rete e come appunto l'U-back detection e di fatto ha anche funzionalità di gestione e possibile creazione di reti anche rindondate all'interno del sistema tramite dei protocolli come perciò vediamo da un lato l'evoluzione muoversi su due campi fornire da un lato queste porte dall'altro fornire delle funzionalità che non sono complesse per la configurazione che poi gli utenti vi ricordo può utilizzare oppure no essendo appunto il principio sempre macchine prime and play ma che gli permettono poi di utilizzare di rendere migliore l'utilizzo della rete stessa un'altra famiglia in arrivo la serie DMS 1250 intanto DMS identifica questa nuova modalità della multiporta all'interno del sistema anche qui vediamo delle macchine che hanno 8 porte 2 giga e mezzo più nelle varie modalità che possono essere appunto quelle di avere l'SFP combo oppure solo l'SFP oppure di avere la macchina non P.O.E cioè parliamo perciò del DMS 1250 a 10S che ha 8 porte 2,5 giga fa sempre parte della famiglia smart di fatto rispetto al 1100 che cosa ha di più? ha di fatto di avere anche l'intervonal routing cioè la possibilità di creare delle VLAN all'interno della rete e farle comunicare tra di loro tramite un modo piuttosto semplice di comunicazione che la rete avranno routing senza dover andare a prendere del routing dinamico che è più difficile da configurare ed è una macchina che di fatto si affianca a tutte le altre nostre macchine dando più possibilità di scelta poi all'utente all'interno appunto nel nostro mondo di link infine altra macchina che sta arrivando è la serie DMS 3130 DMS 3130 è già una macchina più complessa dal punto di vista progettuale perché di fatto è una macchina managed come vedete è una macchina che ha la possibilità di avere in alcune porte ad esempio l'1-2-5-5-5-5-10 gigabit e ha porte 25 gigabit in fibra ottica per la plink può fare lo stacking fisico tramite le quattro porte 25 gigabit e qua vediamo come poi di fatto l'arrivo di queste macchine porta lo stacking a passare da 10 a 25 gigabit altra novità di questo sistema e poi sono macchine che hanno l'intervulant routing perciò vediamo macchine che si evolvono vediamo per esempio all'interno del nostro listino di link l'arrivo all'interno del nostro mondo anche dei 60 watt poe con l'arrivo del 5 gigabit per cui vediamo una serie di tecnologie che all'interno del mondo di link finora non erano presenti arrivare all'interno di questo nostro l'ecosistema e praticamente questa rappresenta l'arrivo di una unità ho messo queste unità ma in realtà altre unità di questo mondo stanno arrivando e ho messo solo quelle diciamo che più strettamente possono essere nell'arco temporale più vicine a quello che sostanzialmente è il giorno d'oggi nostro ma considerate che praticamente parliamo mai di un'evoluzione di una serie di macchine che tendono ad andare verso tutte verso questo tipo di approccio infine però giusto per ritornare un po' nel presente vi ricordo alla fine che poi nell'eventualità di un utilizzo del 2,5 giga poi noi abbiamo anche già una famiglia già presente da tempo nel destino di link che è talmente è molto considerata dal nostro utente proprio perché ha un ottimo rapporto qualità prezzo in termini di prestazioni e appunto di qualità stessa che è il DGS 1520 dove in alcune macchine più e abbiamo a disposizione già 4 porte 2,5 giga bit più e che possono essere utilizzate per particolari access point come wifi 6 oppure pronto per altri utilizzi per cui già questa macchina è presente da tempo e si declina in 4 unità che sono la 28 28 MP 52 52 MP dove P finale indica sempre le soluzioni più e espandibili poi a livello di più e tramite delle alimentazioni rinondate che hanno come codice DPS 700 che riporta fino ad avere 740 Watt di power budget sono macchine che poi appunto hanno tutta l'alimentazione rinondata e sono macchine che poi di facile utilizzo proprio perché pur avendo una possibilità di gestione via CLI o RG45 comunque hanno un'interfaccia web completa semplificata per chi conosce e sa che è un'evoluzione del 1510 è una delle famiglie più vendute all'interno di D-Link e che perciò sa benissimo anche che queste macchine sono macchine performanti ma anche di semplice uso e questo è una di quelle cose che aiuta l'utente poi nella costruzione della rete in modo molto più efficace e rapido in modo rapido concludo questo nostro incontro parlandovi invece poi infine delle soluzioni unmanaged dove come vediamo abbiamo inserito delle soluzioni unmanaged anche all'interno della gamma di Link la prima soluzione è stata DMS106XT che è una soluzione nata soprattutto per il mondo gaming e di fatto abbiamo queste 5 porte 2,5 gigabit come vedete supportiamo anche qua il cavo categoria 5 fino a 100 metri e poi la possibilità ha una porta 10 gigabit per l'Uplink ma soprattutto mi piace sottolineare di questa soluzione il suo design i suoi led cioè il suo modo di mostrarsi come device che strizza l'occhio ovviamente a un determinato tipo di mercato ed è una soluzione poi alla fine pag and pay senza ventole non è P.O.E dall'altro come dicevo un po' precedentemente in questo nostro incontro noi cosa vediamo vediamo anche che ovviamente le soluzioni unmanaged entrano all'interno di questo mondo questa famiglia si chiama DMS 105 107 108 107 il primo entrerà all'interno del destino ovviamente gli altri che essi entreranno all'interno del nostro destino di link se ci focalizziamo per esempio sul presente cioè il DMS 107 vediamo che ha 5 porte 10.000 e poi 2 porte 2 giga e mezzo altri altri come DMS 108 avranno 8 porte 2 giga e mezzo DMS 105 5 porte 2 giga e mezzo perciò di fatto mi piace concludere soprattutto questo nostro incontro nel mostrarvi come il 2 e mezzo sia qualcosa che poi sta arrivando anche nella risoluzione di fascia più bassa e di fatto vediamo anche che di fatto sta prendendo sta di fatto a essere una semplice evoluzione di quello che è il gigabit portato però a utilizzare appunto velocità maggiore detto questo ho concluso la mia presentazione per cui vi ringrazio per l'attenzione e se ci sono domande sono a vostra completa disposizione perciò l'arco di qualche minuto e oppure vi aspetto ai prossimi webinar di di link e niente perciò ancora vi ringrazio di ancora di nuovo per la seconda volta e sto mi muto diciamo in attesa di eventuali vostre domande se vi ci sono o se no queste domande potranno essere fatte anche successivamente tranquillamente senza problemi al nostro interno del nostro ecosistema di link grazie ancora a tutti grazie a tutti trascendendo tutti i vostri ringraziamenti vi ringrazio anch'io oggi siamo in temi di ringraziamenti ma perfetto ho apprezzo il fatto che i contenuti siano stati chiari ringrazio Vincenzo per la cortesia di avermi detto che quello che ho esposto è stato chiaro per cui perfetto allora questa l'intenzione poi di fondo di darvi una una presentazione che fosse semplice chiara e non complicata bene direi che non vi sono sostanzialmente altre domande per cui vuol dire che l'esposizione è stata buona ah ok tempi effettivi per la disponibilità allora diciamo che un po' nella slide era scritto parliamo di tutte le soluzioni che sono disponibili diciamo soprattutto le soluzioni quelle direi che direi un po' due mondi cioè quelle a manager sono in quelle da serie di MS 107 quelle soluzioni sono di più facili cioè sono un arrivo più immediato cioè nel senso parliamo ormai di un mesetto cioè siamo proprio vicini mentre per quanto riguarda le soluzioni più al di fascia più alta come il DMS 31 30 soprattutto siamo in termini di Q3 per cui di fatto siamo obiettivamente penso dopo l'estate cioè obiettivamente però vediamo un attimino però l'intenzione è quella di darvi il più presto possibile tutte queste varie soluzioni già all'interno del listino ripeto quelle più al punto di vista più immediato saranno sicuramente a manager perché sono quelle dove di fatto anche dal punto di vista tecnologico richiedono meno impegno dal punto di vista dello sviluppo e tutto quanto ok direi di stoppare la nostra a Grazie.